ola amigos è mio assoluto onore cantarvi una canzone sul cibo più amato in assoluto dalla gente di tutto il mondo il burrito il burrito meraviglioso e buon da mangiar il burrito il burrito con ogni delizia che vuoi da 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 burrito finezza burger schifezza da 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 burrito finezza burger schifezza bacon ketchup insalata con hamburger e pantostato è un burger che che è un burger che che bacon ketchup insalata con hamburger e pantostato è un burger che che è un burger e quella è la mia canzone del burrito i burrito sono molto meglio smettetela ragazzi allora il verdetto grazie a tutti